ciao a tutti ragazzi sono t black game bentornati a questo mio nuovo video oggi ci troviamo qui in sopravvivenza in outpost e sono qui per mostrarvi alcuni dei posti segreti dove i nemici non vi vedranno cioè sono dei glitch diciamo ad esempio ce ne sono tre in questo video in pratica voi sarete coperti dai nemici non vi vedranno prima glitch dovrete raggiungere uno di questi cani non ce ne sono molti in giro per la mappa dovete andare a destra della scaletta salire lentamente e spingere sempre verso destra quando siete verso l'alto si volete diciamo all'interno del container diciamo si è un container in pratica sarete per me uno dei migliori glitch infatti adesso online non va più l'anno passato in survival non so perchè ci sono ancora i nemici non vi vedranno voi li potete vedere è anche molto facile da raggiungere per questo il secondo glitch in questo capannone non è un glitch diciamo dovrete salire sulla cassa che vi dà le armi saltare su quest'altra quando salirete qui vi abbasserete e salite dall'interno dell'aereo qui i nemici vi potranno colpire ma naturalmente sarete più coperti diciamo era meglio quello di prima perchè era facile da entrare e eravate completamente immortali ma l'ultimo glitch è questo dovrete raggiungere l'ingresso di questo tunnel se non capite qual è guardate la minimappa che ho dimenticato di mostrarvelo allora dovrete andare avanti e sempre spingere verso destra leggermente finché rimarrete incassati nel muro c'è prima questo qui online da qui si poteva uscire dalla mappa andare addirittura sulla montagna adesso online morirete se ho provato a fare vabbè se il video vi è piaciuto mettete mi piace condividetelo fatelo vedere ai vostri amici e al prossimo video ciao ragazzi